La poesia romantica è una poesia universale progressiva. Il suo compito non è soltanto quello di riunificare nuovamente tutti i generi separati della poesia e di mettere in contatto la poesia con la filosofia e la retorica. Essa vuole e deve anche ora mescolare, ora fondere poesia e prosa, genialità e critica, poesia d'arte e poesia naturale, rendere la poesia vivente e socievole e la vita e la società poetiche, poetizzare lo spirito arguto e riempire e saturare le forme dell'arte con puro materiale culturale di ogni genere, animandole attraverso le vibrazioni dello humor. Essa abbraccia tutto quanto sia soltanto poetico, dal più grande sistema dell'arte, che a sua volta contiene in sé più sistemi, fino al sospiro, al bacio, che il fanciullo poeta emana in un canto naturale. Essa può perdersi a tal punto nell'oggetto rappresentato da far quasi credere che caratterizzare individui poetici di ogni genere sia per essa l'uno e il tutto. E tuttavia non esiste ancora alcuna forma che sia fatta per esprimere compiutamente lo spirito dell'autore. Così che parecchi artisti, che volevano scrivere soltanto un romanzo, hanno senza volerlo rappresentato se stessi. Soltanto essa può diventare, come l'epica, uno specchio dell'intero mondo circostante, un'immagine della sua epoca. E tuttavia anch'essa può benissimo librarsi, sulle ali della riflessione poetica, a metà tra l'oggetto rappresentato e il soggetto rappresentante, libera da ogni interesse reale ideale, potenziando continuamente questa riflessione e moltiplicandola come in una serie infinita di specchi. Essa è capace della più alta e della più universale cultura, non soltanto dall'interno verso l'esterno, bensì anche dall'esterno verso l'interno, organizzando in maniera analoga tutte le parti di ciò che nei suoi prodotti deve essere una totalità, in modo tale che le venga aperta la prospettiva su una classicità in crescita illimitata. La poesia romantica è tra le arti, ciò che lo spirito arguto è per la filosofia e la società, le relazioni, l'amicizia e l'amore sono nella vita. Altri tipi di poesia sono finiti e possono essere ora completamente analizzati. La poesia di tipo romantico è ancora in divenire, anzi questa è la sua vera e propria essenza, che essa può soltanto eternamente divenire, mai essere compiuta. Non può essere esaurita da alcuna teoria, e solo una critica divinatoria potrebbe ardire di caratterizzare il suo ideale. Essa soltanto è infinita, così come essa sola è libera, e riconosce quale sua regola fondamentale che l'arbitrio del poeta non tollera alcuna legge al di sopra di sé. La poesia di tipo romantico è l'unica essere, più che un genere di poesia, a essere per così dire l'arte poetica stessa, poiché in un certo senso tutta la poesia è, oppure dovrebbe essere, romantica.